Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Film e Serie TV. La scorsa settimana, sotto la recensione di 1899, è arrivato un commento che a me ha fatto pensare. Era molto semplice. Serie come questa in Italia non siamo capaci a farle. Ora, 1899 può piacere o non piacere, ma dal punto di vista tecnico e di scrittura è sicuramente una bella serie. E qualcuno dice che in Italia serie di questo livello non le facciamo, ma facciamo quasi sempre solo delle fiction. Un po' come le classiche fiction rai, girate un po' alla bella e medio con sicuramente tanti problemi rispetto alle serie straniere. Ora, secondo me non è vero, perché in Italia siamo capaci a fare delle belle serie. Romanzo criminale, che secondo me è una serie bellissima. Boris, la quarta stagione, avrei voluto recensirvelo, ormai è passata, ma anche quella è meravigliosa. Strappare lungo i bordi, a me è piaciuta Suburra. C'è un'altra serie, Netflix, che ha poche pretese, e diciamolo non è minimamente a livello di romanzo criminale, ma è una bellissima serie. A me Gomorra non piace, però anche quella è oggettivamente una bella serie. Insomma, siamo capaci di fare delle belle serie. Ma, ma, purtroppo è stata la punta dell'iceberg. E tra queste belle serie non me ne viene in mente assolutamente nessuna che sia di genere horror, di tensione, di paura, di mistero. Quasi come se noi, quelle serie lì, non sapessimo più farle, quando, tra l'altro, neanche a livello di film, non abbiamo praticamente più film di genere da almeno 30 anni, anche forse qualcosina di più, e noi siamo la patria di Dario Argento, per intenderci, ebbene, per qualche motivo queste serie non le sappiamo più fare. E così, due anni fa, quando a metà del 2020 Netflix pubblica Curon, la risposta italiana ad Ark, io dopo un po' sono andato a vederla, perché volevo vedere se finalmente eravamo riusciti a produrre qualcosa di decente. Ora, i trailer, già mi aveva fatto dubitare un po', quando l'ho vista, le cose sono decisamente peggiorate. Quindi, come sempre, se non siete iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi ve lo dico già, ci andremo ad arrabbiare insieme. Curon è una serie tv, appunto, italiana del 2020, ambientata in un villaggio, appunto, di Curon. Per chi non lo sapesse, è un paese che esiste veramente, attualmente si trova circa 2000 metri, 1950 metri, ma una particolarità è stato completamente ricostruito una sessantina d'anni fa, quando il vecchio villaggio, che si trovava leggermente più a valle, è stato completamente sommerso dal bacino artificiale di una diga, da un lago. Completamente sommerso, tranne il campanile della chiesa, che ancora oggi sbuca dalle acque del lago, ed è diventato ovviamente un'attrazione turistica. Bene, in questo paesino, che già è molto, molto interessante, già solo per questa particolarità, in questo paesino si ambienta la storia di questa serie, che vede una madre con i due figli post-adolescenti, adolescenti tardivi, insomma, fine delle superiori, un maschio e una femmina, arrivare dalla città per trasferirsi in questo paese. Si portano dietro una serie di misteri, si portano dietro vari problemi, ovviamente non ve ne parlo nella prima parte senza spoiler, lo faremo nella seconda, e arrivano in città per stare dal nonno, nonno da cui la madre è fuggita anni prima, con cui di fatti non si parlano più, ma che gestisce un hotel, beh, gestire, insomma, non c'è nessuno in quell'hotel, ma quell'hotel lo tiene aperto, diciamo così, gestisce, tiene aperto un hotel proprio nella cittadina. Da qui si mette in moto tutta una serie di avvenimenti che dovrebbero portarci al mistero. Bene, perché dico dovrebbero portarci al mistero? Partiamo dalle cose semplici. Questa serie è, dal punto di vista tecnico, abbastanza mal fatta. Ora, se ci trovassimo davanti a una web series studiata per YouTube, mi direi che è stato fatto un bel lavoro. Ma dato che è una serie professionale, che è finita su una piattaforma e dovrebbe fare concorrenza a Dark, beh, di problemi ce ne sono tanti. Ci sono problemi dal punto di vista della recitazione, perché, per carità, io non sono un attore, lungi da me poter andare a giudicare le piccole cose, ma da spettatore dico che va bene che i personaggi sono mediamente dei montagnini o discendenti di montagnini, è un po' per cliché, quindi devono essere duri, puri, scolpiti nella roccia, ma, santo cielo, vogliamo dargli un'espressione a questi personaggi ogni tanto? Vogliamo recitare con un po' di tono di quello che stiamo dicendo? Altrimenti prendete un copione, lo leggete con un tono atono e le cose vanno bene uguale. Non è così per tutti, c'è chi recita meglio, ma questo stacco si sente tantissimo. Ci sono delle scene in cui uno fissa, scena peraltro in cui magari c'è solo l'inquadratura del volto, quindi dovrebbe essere una scena passionale, una scena in cui l'immagine, il volto dell'attore, e ti dovrebbe già dire più delle sue parole, in cui invece l'attore rimane perfettamente immobile e dice dobbiamo andare a salvarla, potrebbero ucciderla. Ma Mizzica, dagli un po' di espressione, va bene che ne faccia, nemmeno la scelta degli attori è abbastanza interessante da quel punto di vista, però un minimo di lavoro su questo ci sarebbe potuto stare. Dal punto di vista della costruzione della storia, però, caspita lì, veramente abbiamo toppato di brutto. Partiamo dalle basi. Allora, una serie di mistero e di orrore dovrebbe teoricamente accompagnare lo spettatore in una buca, cioè lui parte da una situazione relativamente normale, entra in una buca, che insomma inizia a vedere delle cose che non capisce, delle cose paranormali, mettiamo, eccetera, e poi pian pianino guidarlo nella risalita, e man mano che lo guida nella risalita dovrebbe spiegargli tutto quello che è avvenuto prima, mantenendo puntata dopo puntata una certa tensione che deriva sia da quello che fanno i personaggi, quindi la scena sul momento, sia dalla volontà di capire come le cose vadano a finire. Bene, in tutta questa serie tutto questo non succede. Perché non succede? Beh, ovviamente non vi voglio fare spoiler, ne parlerò nella parte seguente, ma vi dico subito che sostanzialmente alla seconda terza puntata, quindi più o meno a un terzo di stagione, in maniera abbastanza chiara, si capisce quella che è la trama di tutta la serie, il grande mistero che sta dietro questo lago, che sta dietro sparizioni e morti misteriose, ma non si capisce in maniera abbastanza chiara, cioè non è che ci è voluto una grossa elucubrazione, ed sembra uno di quei momenti, non so se avete presente, vi faccio un esempio con un poliziesco, così forse comprendete, avete presente, c'è un omicidio, ad un certo punto arriva il poliziotto, come nella signora in giallo, il poliziotto un po' scemo, che dice, io lo so chi è stato a uccidere, è stato il marito, perché l'ho trovato con in mano il coltello, e con le mani insanguinate, quindi sicuramente è stato lui. Ma invece il nostro investigatore, che è più sveglio, cosa fa? Capisce che non è stato lui, e i due terzi successivi di film servono per permettere a lui, e a noi insieme a lui, di capire chi sia stato veramente l'omicida, e ovviamente per dimostrarlo. Bene, in questa serie succede un po' il contrario. Dopo un terzo di serie, tu hai capito come funziona tutto, e sembra una spiegazione anche relativamente semplicistica, diciamo, ma dici, vabbè, probabilmente non è solo così. E quando arrivi alla fine, scopri che quella spiegazione era quella giusta, era semplicistica, era stupida, non aveva sostanzialmente niente di interessante dopo due puntate, ma era l'unica spiegazione data a tutta la serie. E arrivi alla fine e dici, ma cosa ho visto allora fino adesso? Se avevo già capito tutto dopo due puntate. Devo, per questi personaggi a cui non mi sono affezionato, dato che sembrano una pietra con una parrucca che recita, dovevo guardare tutte queste puntate. Bene, questo è esattamente quello che succede con quella serie. Del resto, le singole puntate anche faticano a creare della vera tensione. Cioè, adesso siamo onesti, la tensione si crea se riesci a partecipare a quello che fanno i personaggi. Il problema è che Curon è pieno di scene incomprensibili, in cui i personaggi fanno cose che non capisci. Si vedono magari dei personaggi secondari, ma non per 30 secondi, per 10 minuti andare alla ricerca di qualcuno in montagna, osservare oggetti, trovarne altri, entrare in grotte. E tu pensi, ma perché ci vanno? C'è un motivo? Chi è quel personaggio che è sbucato, di cui mi state parlando come fosse il personaggio principale, e io non ho mai visto? Perché ha trovato quell'oggetto? Magari lo capirò dopo. E invece dopo non lo capisci. Magari questi 10 minuti si arrivano a dare un piccolo scampolo, una giustificazione, un evento successivo della trama, e dici, ma non serviva molto. Poi, lasciamo stare il fatto che i personaggi sembrano non avere un filo logico nelle cose che fanno, e quindi vanno avanti, indietro, su e giù dalla montagna. Cioè, quando non sanno cosa fagli fare, gli sceneggiatori dicono, andate in montagna, montagna dove peraltro ci sono due location, due location, e vanno sempre tutti lì, e poi una terza nel finale, ma va bene, vanno in montagna, trovano roba e tornano giù, vanno in montagna, trovano roba e tornano giù. Dopo un po' dici, beh, puoi anche guardare bene la prima volta che vai, senza fare avanti e indietro 40 volte. E poi, vabbè, ci sono le classiche, i classici cliché, che io credevo che nei film horror fossero stati abbandonati dagli anni 80. Quando vi sentite, se voi vi trovaste, ad esempio, fuori da vostra casa, in piena notte, sapeste che c'è qualcuno in giro che vi vuole uccidere, e vi trovaste da soli, in un posto abbandonato, e la luce va via, e poteste scegliere tra correre verso casa vostra, che è 10 metri vicino, aprire la porta e salvarvi, o correre al buio nei boschi, cosa scegliereste di fare? Ovviamente in questo film è la seconda. E mentre state correndo, ad un certo punto avete tanto vantaggio sul vostro inseguitore, cosa farete? Beh, come in un qualsiasi film horror, vi fermerete a riposare dietro un albero, cercando di non ansimare troppo forte, perché intanto lui si è avvicinato, ha guadagnato tempo, e vi farete ammazzare. Bene, tutto il film è pieno di scene così, che ripeto, già facevano ridere negli anni 80 forse, ma adesso dici, ma insomma, provate a immaginarvi qualcosa di migliore. C'è addirittura una scena in cui veramente questo ragazzo, che sa che qualcuno vuole ammazzarlo, che quel qualcuno è non proprio del tutto reale, e che si trova fuori da casa, al padre che gli dice, vai a prendere il cibo per il gatto fuori di casa, sotto, in un posto buio. Lui dice, ma no, no, vai, vai, ma no, ma vai, vai, ma digli di no, ma che sto gatto, dategli da mangiare del pane, del latte, ma perché devo andare a morire? Oppure di vieni con me? Ma ci tieni così niente alla tua vita che devi andare a comprare del cibo per il gatto, cioè io capisco, voler rappresentare un personaggio triste, eccetera. Lasciamo stare poi che i personaggi ogni tanto fanno delle cose che sono completamente fuori dal loro personaggio e che servono solo a mandare avanti la trama, ma lasciamo stare. Insomma, un disastro sotto tutti i punti di vista. Ora, io l'ho vista questa serie, l'ho vista fino alla fine, e anche se devo dire che nella vita mia ho visto di peggio, ho visto di peggio, però ho avuto chiaramente la sensazione alla fine di dire mi avete rubato del tempo, mi avete rubato del tempo. Peraltro, l'ultima stagione finisce con un cliffhanger che non è un cliffhanger, perché in realtà con l'ultima puntata sostanzialmente si spiega tutto quello che è successo, si ha anche una discreta conclusione del tutto e poi ti dicono ah, ma c'è ancora questo e tu dici ma cosa me ne frega? Ti ho detto guarda, io ormai ho risolto il problema, l'ho scoperto, questo saranno problemi vostri, non lo so, prossima stagione togliamo il mistero, lo facciamo solo in una serie di azione, ma ripeto, di questo ne parleremo meglio nella seconda parte, però fidatevi che francamente arrivi alla fine e tutta questa necessità di una seconda stagione non c'è. Credo non la stiano girando, quindi insomma quantomeno gli si è dato un finale. Insomma, se devo consigliarvi non perdete tempo con quella serie, non è una serie piacevole e ha tanti dei problemi che attanagliano le serie italiane, cioè a volte veramente l'incapacità di provare a dosare e fare qualcosa di un po' più complicato. Non servono soldi sempre per fare queste cose, perché la stessa serie si poteva fare magari in meno puntate, con una storia un po' più elaborata, con dei personaggi un po' meno tagliati con l'accetta e sarebbe venuto qualcosa di migliore. Ma non lo si è voluto fare, perché la differenza tra Dark serie tedesca è questa e sì, qualche immagine un po' più bella fatta al computer, ma che francamente si poteva fare a meno, ma è una scrittura, una scrittura completamente diversa e quella la si paga fino a un certo punto, solo in lavoro e non in denaro. Ad ogni modo, qui finisce la parte senza spoiler, quindi se non avete ancora visto la serie e per qualche motivo volete farvi male e vederla, fermatevi qua, altrimenti andate avanti, la seconda parte parlereò di qualche scena compreso il finale, però come al solito uomo avvisato, uomo avvisato. Da dove partiamo? Allora, partiamo dall'inizio. Questo sviluppo all'inizio arriva questa madre con questi due figli, stanno scappando da persona violenta barra marito barra padre dei figli, che però anche lì la trama è abbastanza complessa, si capisce che lui è andato via prima ma poi è tornato, insomma, è un po' complicata la cosa. Ad ogni modo arrivano in questo paese. Fin dall'inizio la protagonista sembra un po' chiaramente la madre, che però ad un certo punto sparisce, cioè fateci caso, la madre come personaggio, non il suo doppelganger, il suo, il personaggio principale, scompare quasi completamente per metà della serie e tu dici ma era il protagonista fino ad un attimo fa perché deve sparire? Ora, dato che so che a questo punto ci è arrivata anche gente che la serie non l'ha vista, vi spiego molto velocemente la trama. Questi arrivano in paese e si scopre che dal lago di Curon escono dei doppi esattamente identici delle persone, persone che in qualche modo evocano questi doppi quando sono depressi, vorrebbero morire, sono stufi della loro vita, vogliono cambiarla. Questi doppi nascono dal lago e uccidono l'originale e ne prendono il posto, ovviamente vivendo una vita più piena, in maniera anche più aggressiva, sono violenti, uccidono, insomma, questa è per farla molto breve la trama. La protagonista è scappata da Curon dopo che il suo doppio ha ucciso la madre, suo doppio che il padre, non riuscendo ad uccidere, ha imprigionato per anni e anni e anni nell'albergo e che si libera proprio quando loro arrivano. Spiegata è molto in semplice la trama, poi ci sono tutti i scontri, eccetera, eccetera. Bene, questa trama non regge, non regge ma neanche per un secondo, perché sfido chiunque a non averlo capito fin dall'inizio che questa era la base, dal momento in cui compare il primo doppio del ragazzo che quel doppio veniva creato per questo e da quando lo uccide ne prende il posto che quello era già successo altre volte. Anche il doppio della madre è evidente che sia così ma da quando si capisce da quella parte peccato che siamo alla terza puntata e dobbiamo arrivare alla fine, io non posso alla terza puntata aver già capito in maniera così netta che cosa stia succedendo, perché, perché no, perché allora mi stai rubando il resto del tempo. Poi, come dicevo prima, gli avvenimenti completamente casuali, buttati lì, il padre dei due ragazzi biondi, non ricordo il nome, non voglio ricordarlo, il guardacacaccia, che viene imprigionato, c'è tutta quella sottotrama che lo imprigionano perché forse ha ucciso le donne scomparse, forse ha ucciso lei, la protagonista che poi protagonista non è, e poi viene scarcerato. E poi si riparte esattamente da come sia la prima. Ma cosa è servita a quella sottotrama? A riempire due puntate? Perché non è servito nient'altro? A cosa è servita quella sottotrama? Io vi dico che tra tutte le sottotrame che ci sono state l'unica che a me francamente è piaciuta un pelo è quella della madre dei due ragazzini biondi che a un certo punto dato che sa che il marito la tradisce e questa cosa la delude tantissimo evoca il proprio doppio e alla fine accetta che questo doppio la uccida affinché possa vivere una vita migliore rispetto alla sua. Bene, quella è l'unica sottotrama che francamente mi è piaciuta non perché abbia un qualunque valore perché non ce l'ha non ha nessun valore cioè poteva non esserci ma perché è una bella scena è ben recitata aggiunge tanto così di spessore alla trama mentre negli altri è il doppio che arriva voglio vivere la tua vita l'ammazzo fine della trama qui c'è stato un momento emozionale peraltro ben 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 recitata quella scena la differenza si è tutta vista lì se tutto fosse stato di quel livello con un piccolo passaggio in più almeno avremmo avuto una serie migliore il finale poi come vi dicevo prima non ha nessun senso cioè qual è il senso di quel finale quella lunghissima scena d'azione in cui vengono buttati così altre cose tipo dei soldati anche lì madonna ma sta cosa è incredibile allora una fortezza della prima guerra mondiale meta turistica perché tutti sanno dove è tutti ci vanno in cui girando trovano dei resti umani buttati lì ma in che mondo cioè non è non è Mordor per intenderci non è la miniera di Moria dove non entra nessuno da una vita è un'attrazione turistica in Italia magari non comodo da raggiungere ma si spera che qualcuno ci sia entrato negli ultimi cent'anni e invece no li trovano dei resti umani e quello fa ridere poi c'è tutta l'ultima scena d'azione con loro che si ammazzano a vicenda il padre che in qualche modo rinsalisce e anche lì una cosa che avviene un po' buttata lì non era stata particolarmente preparata cioè il padre che nella puntata precedente ricordiamoci dopo aver salvato la propria moglie e quindi quasi aver mostrato attaccamento alla famiglia però era tornato con la sua amante quindi insomma non mi crei substrato non mi crei le basi perché possa affezionarmi alla crescita di questo personaggio e vedere il suo cambiamento come qualcosa di più di un sposto fucile destra sinistra destra sinistra destra sinistra lancio monetina sparo a sinistra che credo che per voi sia destra ma non importa io ce l'ho sono invertito mentre registro insomma capite tutto questo non ha nessun senso e quel finale alla fine l'unica cosa che aveva di soddisfacente era proprio il fatto che fosse il finale perché quando finiva la serie io riuscivo solo a pensare ma è tutto qui tutto qui cioè veramente su un'idea così basilare e sul nulla da raccontare avete messo insieme un'intera serie un'intera stagione ma poi cosa mi rappresentano quei due doppelganger che sotto il ghiaccio cercano di rompere il ghiaccio un proseguo e che proseguo sarà ormai è tutto svelato volete fare una stagione in cui questi qua continuano tra l'altro anche quello i doppelganger sono infiniti tu ne ammazzi uno tieni via di un altro su cos'è la prossima stagione su loro che ammazzano 150 volte i loro doppelganger si immergono dentro il lago scoprono che dentro c'è una macchina aliena che li crea e riescono a distruggere evitare che si continuino a creare quanto ancora a fondo vogliamo scavare con questa serie fortunatamente spero di no perché ripeto finora non ho avuto notizie che ci sia una seconda stagione ma nel caso sarò molto triste di vederla perché io ho questo grosso problema per quanto un libro sia brutto per quanto un film sia inguardabile per quanto una serie mi abbia deluso io devo continuare a vederla su Netflix troverete una serie francese che si chiama Marseille che secondo me è orribile nonostante ci sia Gerard Depardieu e io dopo che mi faceva schifo dopo due puntate sono comunque andato avanti a vederla e so già che vedrò anche la seconda stagione di Curon nonostante la trovi oscena non lo so mi faccio male in questo modo ad ogni modo io mi fermo qua sarei curioso di vedere se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna di vederla tra l'altro è una serie che è stata fortunatamente abbastanza ignorata cioè ha delle recensioni positive della critica che però è critica minore mi dà l'impressione che qualcuna di queste recensioni sia arrivata da Netflix o sia una recensione di chi dice ah che bello una serie italiana diamole un voto positivo ma poi in realtà non ho visto grosse recensioni in giro ed è una fortuna ad ogni modo se l'avete vista sono curioso di sapere cosa ne pensiate ditemi voi se vi sembra un qualcosa di decente queste pidole di cinema e serie tv sembrano che si stiano ripetendo ma così avevo voglia di raccontarvi qualcosa fatemi sapere se volete se avete visto anche Boris 4 ecco perché quella sarebbe veramente una bella serie da raccontare a presto ciao ciao ciao